ciao a tutti benvenuti a una nuova puntata di questa serie su viva la fifa foot e disperazione ora devo dire una cosa io sto registrando questa puntata proprio subito dopo quella precedente quindi ho registrato due di fila perché mi trovavo un po di tempo per poterlo fare e l'ho fatto allora la scorsa puntata siamo riusciti a raggiungere la salvezza della stagione online ottimo ora quello che ci serve adesso ora intanto di sbustare un po lo stiamo qualche pacchetto sperando in bene sperando in bene anche se ho poca speranza comunque mi sono riservato questa puntata tre pacchetti potrebbero essere interessanti vediamo speriamo che sia davvero così proviamo a vedere comunque pacchetto giocatori oro rari avanti iniziamo con questo meno è raro turco cc di squadra turca oiziav cup è un codice fiscale questo mi hanno dato un codice fiscale invece un giocatore e va bene lo stesso questo cos'è di hop di hop è anche scarto non giocherò mai spagnolo e penso non è pericoloso anche da portare su youtube perché lasciamo perdere ora giocatori oro premium avanti vediamo giocatori oro premium cosa viene fuori viene fuori fermi tutti aspetta portoghese portiere lo sport patricio patricio niente 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 e se ormai fra un poco mi crash anche perché i termini fifa sono meravigliosi sono efficientissimi a mamma mia che fa ce la facciamo ce la facciamo io credo in voi credo in voi server di fifa e cacchio crash a quindi ci vorrà un po di tempo scusate ok e rieccoci rieccoci in alto con una buona notizia alla fine alla fine questa busta non si è rivelata proprio completamente inutile ma ci ha tirato fuori nagio monreal giocatore che possiamo vabbè ok dicevo che possiamo mettere nella squadra riserve ma alla fine utile lo metteremo nessuna squadra di te vediamo un po la situazione mentre questi ma mara fona ovvero maratona pronunciato da giovanotti ma la fona non mi vede troppo da ridere comunque dai questi anni e ho capito ho capito ho capito questi questi è è perché a lista dei trasferimenti grazie ecco il resto vanno al club con giocatori di paro di vario tipo direi 2 le due è ok va bene così ora poi poi l'ultima busta l'ultima busta che ci rimane pacchetto mega vediamo il pacchetto mega cosa viene fuori 30 oggetti 26 oro di cui 18 rati il mondo è la fine viene uno spagnolo attaccato sinistra ruota fermi tutti fermi tutti questo mi piace questo mi piace tantissimo questo è parte e se però ok mi piace stacco mi piace ok allora tu andiamo alla rosa attiva al posto dell'arnauto vici che ci saluta tanto ci saluta tanto arnauto di viceval club poi e sarà tutto molto in te questo costa di 92 va bebbia un po cos'altro viene poster un altro portiere poster c'è tre volte c'è arrivato poster comunque vediamo un po di giocatori quest qua ma un po di robe consumabili che possono essere utili la divisa dei kai fer chief e poi fornaroli fornaroli e questo direi che va lì e il resto olè bene 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 benissimo benissimo ci apprestiamo a giocare la partita online partita online ok con la novità de lofeo perché per me de lofeo a sto punto è titolare de lofeo per me è titolare ma fisso ma fisso modifica formazione titolarissimo de lofeo de lofeo titolari titola rerrimo proprio che tra l'altro dovrebbe avere anche di più di intesa 10 ok proprio titolare rimo titolarissimo e son il coreano passa alla squadra riserve poi ovviamente un'altra cosa che questo però la vedretta la scambia giocatore terzino destro dove sei dove sei non lo vedo dove è finito naccio 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 decresce andiamoci così naccio 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 io ho visto naccio l'ho visto giuro l'ho preso l'ho preso naccio dove sei naccio montreal naccio montreal io l'ho visto naccio montreal l'ho visto io naccio montreal ok andiamoci natal ok andiamoci natal ok andiamoci natal ok andiamoci natal maniera allora scambia giocatore nome giocatore mon 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 nacio montreal che l'ho eh io ce l'ho ah è terzino sinistro e allora ciao e allora ciao e allora ciao mi spia pensavo fosse terzino destro vabbè comunque la novità di attacco è Deulofeu del Watford bene così passiamo alla partita passiamo alla partita e vediamo cosa cosa riusciamo a tirare fuori tanto vediamo l'avversario che ci cade davanti per fortuna giochiamo diciamo a abbastanza tranquilli nel senso è comunque la salvezza ce l'abbiamo non non abbiamo molto la pede la salvezza ce l'abbiamo la promozione non è assolutamente nostra portata poi porca miseria se tu quando becchi poi una squadra così che cosa puoi fa preghi che preghi che cosa puoi fa preghi bene ottimo ma con una squadra così preghi che devi fare preghi ok adesso c'è no iniziamo bene per fortuna diciamo che siamo già salvi perché se no sarebbe poi poi se anche i miei giocatori dormono perché c'è la bala sulla testa la lasciano sfilare vabbè che vuoi ti dica comunque calma bella te lo feo te lo feo te lo feo te lo feo l'esordio primo pallone toccato te lo feo te lo feo primo pallone toccato in squadra da te lo feo è un goleo è da te lo feo il goleo incontro peo fu da un feo feo ok bene benissimo raga benissimo non potevo iniziare meglio e ora e ora lui me ne fa 370 che con i giocatori che fa può tirare la mette dentro anche dal pacchetto dello stadio Deulofeu Henderson no ancora dello feo dello feo attivissimo comunque bravo peyerin dovrebbe essere anche nostra perché era tirata no no è su è angolo e va bene e allora va bene così mata ehi bravo almeno stavolta non ti sei addormentato ok Henderson per Pedro bene bene Deulofeu eh questo è fallo però eh questo è fallo però comunque vabbè dai fa niente fa niente fa niente calma calma oh è fuori niente no per loro puoi giocare come vuoi forse per lui balls count anywhere come se vuol dire no calma 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 no ah e ciao eh ciao ciao questa non questo non li fermi eh ciao non puoi fare niente non puoi fare niente o la sbaglia lui o non si può fare nulla eeeh Neymar Cavani o la sbaglia può solo sbagliarla lui quella situazione Pedro crossa poi niente niente poi cacava vabbè ceciate i giocatori che fanno paura no ah niente eh Neymar mamma mia eh qua quando c'hai questi che cosa puoi fare c'è vinci per inerzia eh vabbè no ecco vedete purtroppo questi giocatori eh quando una squadra ha questi giocatori non ha bisogno di giocare bene ti volti da qualsiasi posizione del campo ti volti tiri la palla va l'incrocio no la mandi tu cioè tu tiri a caso come vuoi tu alla palla andrà all'incrocio sarà gol cioè non è matematico eh purtroppo così è per fortuna ripeto che siamo salvi vai Pedro Pedro e tira prima Pedro peccato vai ok dai calma calma ok a posto poi fallo e dai ah non è fallo va bene no calma 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 check meno male ok 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 marcus young dalla non vi prendi la peccato vabbè dai fa niente fa niente uno fa quello che può uno fa quello che può purtroppo ma calma oh poi io che succede dal va bene ok sei infortunato anzi penso da solo però vabbè vai no che ragazzi oh vai vai mata pedro bella morata da che tu da che tu va bene no no vabbè vabbè e ora lui poi c'ha neymar bravo ferrardigno cosa ah fine primo tempo 2-1 ragazzi si fa quello che si può si fa quello che si può ragazzi purtroppo la situazione è questa ho due ammoniti pedro per cammo cioè dove quando gliel'ha dato sto giallo c'è posso saltano saltano fuori i cartellini così out and over però va bene ok allora coiang pallo no no a posto a posto io mi prendo due gialli però se gli altri asportano le caviglie nei giocatori non è un problema vabbè lui comincia a fare comincia a fare proprio melina violenta e fa e fa vabbè e mar e vabbè e ciao e come lo prendo e si vabbè si vabbè e dai pure e vabbè raga questa dovevo perdere signori questa dovevo perdere allora questa vabbè check vabbè vabbè e che devo fare va bene provo a fare qualcosa fare i cambi togli le faccio del santetico li faccio prima almeno adesso metto la pausa poi se sarà possibile se non farà melina faccio il cambio e lui sta facendo proprio melina in maniera e proprio lui sta facendo melina e vabbè e o melina proprio va bene e non ci prova neanche vai morata per te lo feo te lo feo te lo feo te lo feo e 2 3 a 2 dai è riaperta è riaperta è riaperta dai che è riaperta ora facciamo questo cambio salà e vediamo cosa si si tira fuori vediamo un po' ammesso che me la faccio a giocare perché già sul 3 a 1 ha cominciato a fare ha cominciato a fare melina con Neymar tornava indietro fare dire insomma faceva faceva vabbè lui se la sta prendendo comoda forse starà facendo dei cambi non lo so vediamo comunque lo feo comunque doppietta all'esordio calma ok anzi calma oh oh tale cosa gli stava entrando vai dai che è tua niente proprio non do lì ci provano eh ora cross vai vai Enderson Mentre mi si è infortunato uno dei miei mi sa vai vai ancora Deleufeu 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 3 a 3 3 a 3 Mentre Bellerin è infortunato non è affatto una buona notizia Morata eh vabbè Morata c'ha un altro con la no no vabbè vai che è tua vai che è tua no dai era sua vabbè ciao eccomo lo fermo bravo Kail ok Morata vai per Salah Salah cross di Salah Deleufeu c'è vabbè la perdo perché la perdo però porca miseria come come ci sta come ci meriterebbe almeno il pareggio non me lo aiutiamo di perderla bravo Bellerin mata chi cacchio la dai oh e vabbè ciao non lo prenderò mai bravo Roio Cahill Fernandinho ok Anderson per Deleufeu per Deleufeu Deleufeu 3 a 3 Deleufeu 3 a 3 tripletta all'esordio Deleufeu Deleufeu il tripleu il tripleu Deleufeu e il pareggio Deleufeu Deleufeu intanto lo cambio cambio Mata che ce l'ho mezzo morto Casorla e il terzo cambio ce lo teniamo eventualmente per in caso d'emergenza ok comunque partita epica la perderò perché sono destinato a perdere perché perché lui c'è giocatore che tira dal parcheggio dello stadio e segna però la sto giocando epica sta partita vai Henderson ok Henderson ancora Deleufeu Young Salah peccato ah no mi si è infortunato Salah dai c'è veramente tutto contro ho tutto contro infortunio a Salah appena è entrato c'è tutto contro che veramente vai Marcus Pejerin Casorla Salah Morata Deleufeu vai Deleufeu Deleufeu ancora e fallo però Deleufeu ricupere il pallone Deleufeu sei 4-3 4-3 4-3 4-3 Deleufeu 4-3 fa 4 gol all'esordio che cosa che cosa non so che la perdo 5-4 però lo check e vabbè e vabbè vinci per forza e io io lo so che questa la perdo però intanto sono sul 4-4 4 gol Deleufeu contro questo che c'è una squadra la squadra che avete visto c'è eroico il solo fatto che me la sto giocando solo solo sul pareggio all'87 all'88 comunque gli minuti finali è già eroico solo questo ok no check bravo young ok Henderson va bene mamma mia quanto momentum c'è in questo ok dai check Deleufeu vai salà 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 fallo è fallo questo è fallo è fallo era fallo peccato va bene dai va bene comunque c'è 4 gol di Deleufeu 4 gol all'esordio ragazzi meraviglioso meraviglioso Deleufeu e il Pochereu un punto insperato perché insperato partita eroica bene così teoricamente sarà ancora in corsa per 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 promozione anche titolo per teoricamente però beh non ci credo non ci crederò mai ma vabbè direi ah ottimo direi ottima cosa allora direi a questo punto è andare io alle squad battles ma si è decisamente fuori dalla portata la nostra squadra direi che andremo su questa vediamo ehm sì 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 facciamo facciamo una cosa andrò lì su questa però magari livello campione dai livello campione proverò a livello livello campione e c'è un po' di cosa da fare è compresa la squadra detto questo direi che ci vedono fra qualche minuto la formazione pronta ed eccoci qua pronti per affrontare anche la partita di squad battle su questa puntata dopo il match incredibile sotto tanti punti di vista abbiamo avuto online adesso ci apprestiamo affronta questa partita di squad battles avversario alla portata ho azzardato livello campione perché ho pensato di poterla portare a casa e quindi poter portare a casa anche più punti per la squad battles la squadra è la portata ci sono tre giocatori due brava tre giocatori da tenere il doc ma la squadra sembra la portata avanti ok ora stiamo per iniziare iniziare avanti ah non mi sono dimenticato di farmi notare come avrete capito sonno è passato alla squadra riserve ha sostituito Arnautovic il vecchio il pallo della luce Arnautovic insomma per fortuna avremmo ora anche qua la squadra riserve un esterno sinistro in attacco con una mobilità decente di giro ok comunque sonno salà quasi quindi Arnautovic è bene vai santi bella sonno e olè 1 a 0 1 a 0 sonno cominciamo bene cominciamo davvero bene 250 con questo club pazzesco 250 gol c'è Nava ci ha appena informato che questo è il gol numero 250 con questo club eh bene vabbè in questi 250 ci sono anche gol che ha fatto avrà fatto sicuramente in tutte le varie partite che ho giocato con la squad battle consiglio per i fatti miei che le gioco sempre per avere delle booster a sbustare alle nostre puntate meno male oh vai cedric vai che l'ha visto vai salà vai salà dai sonno peccato vai direi che la stiamo la stiamo giocando bene dai la stiamo giocando decisamente bene dai 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 sonno girù ma qualcuno casamove ah sonno eh girù ok cambialato ok e Baines non ne ha perso l'attimo sonno girù casorla uuuu canne di riflesso ed è che non la tocca grazie ringrazio l'arbitro per questo regalo non ci faremo molto però ringrazio l'arbitro per questo regalo ok vai via e per di tacco vabbè i party son bello cercare il girù tale vabbè due volte due volte è rischiato l'autogol sono certo se entrava in questa pallone ridevo fino a ridevo fino a domani mattina comunque dai girù niente no niente però ritendiamo palla ok cedric niente no 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 fermi non facciamo stronzate bravo ok sala girù girù a giro vabbè se vabbè pure io si parla di vabbè scassa il ceramico insomma direi che c'era abbastanza capito che non era gol eh comunque vabbè son vabbè l'arbitro che fa il blocco mi mancava ok weyè ok sala e chi cacchio la do son cross angolo ok allora primo palo direi così e chi cacchio rudig sala mentre cosa stanno facendo i due non c'è che bello sto replay mi è piaciuto sto replay bello bello si vede chiaramente quello che è successo così hanno i vabbè i bei replay di fifa no quei è bella mi è piaciuto baines cross vabbè comunque siamo siamo fissili ok vai ciru no che che è svenuto che gli è preso son cross salà e salà salà di testa tra l'altro ok due già va meglio già così va decisamente meglio va decisamente meglio così ora via il cross son prende cross e salà di testa poi tra l'altro sul primo palo bene 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 portierone portierone insomma no veramente in effetti parate non ne ha fatte molte sono stati molto più difensori a salvare che lui comunque ora loro si stanno adesso si stanno buttando in avanti ora no io non voglio non voglio darlo a quel difensore quello là accanto bello sto tiro che è deciso no cosa è sta cosa ok cedric qua casorla weyè son ma porra no casorla bello sulla fascia vai cedric il cross ma giro ma che veniva giù lo stadio che stai dicendo cosa stai dicendo che veniva giù lo stadio era facile da mettere diciamo che lasciamo perdere casorla bene ok no casorla non è molto ingiornata oggi non è molto ingiornata oggi casorla comunque 2 a 0 partita la stiamo portando a casa in maniera abbastanza tranquilla devo dire 2 a 0 molto tranquillo ok calma però calma però meno male ok bravo Art lancia così Salah bella Salah Salah vai in porta Salah Salah non avevo neanche caricato tanto ho detto vabbè la piazza un secondo palo invece non fa sta cosa va e vai chi è dietro è Giroud ancora Salah cross Son e sono 3 o le tieni continuiamo alla grande e mi stanno piacendo e mi stanno piacendo molto bravo Son guarda cross in Salah e Son vabbè straordinarie diciamo che il cross di Salah l'ha messo praticamente là davanti la porta era obiettivamente difficile sbagliare però l'importante è che l'ha messa anche Giroud ha avuto un'occasione del genere su un cross e è riuscito a tirarla fuori quindi non è mai detto nulla comunque avanti Salah che cosa fai la morte del cigno cosa era sta cosa questi sono questi sono 200 questi sono 200 punti squad battles in meno vabbè peccato potrebbe avere le reti inviolate sarebbe stato bene santi casorla vai Cedric il vino in brick Cedric cross vai Son eh vabbè comunque ok primo palo Giroud minchia mano potente che c'ha suo portiere vabbè non so se vedi visto la manata che ha dato dove ha spedito il pallone e che con quale potenza comunque vai no eh nostra ok io io se riuscissi a fare un altro paio di gol non sa sarei contento ecco e Son Tripletta di Son comunque Tripletta di Son nell'esodio nella squadra di serve tra l'altro due di testa due di testa al volo su cross bene Son bene 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 signor 4 a 1 se ne faccio un altro sono posso essere contento però vorrei evitare di subirlo così giusto mi darebbe un po' fastidio subire altri gol quindi se possibilmente attenzio dai bravo Art ok Son Son sei stancato Cedric senti Casola ancora Casola vai Casola sarà un caso Casola che brutta battuta scusate allora primo palo magari così c'è un altro super mega tiro dal parcheggio dello stadio che lo mette all'incrocio direi anche no vai Son ok vai Giru te che l'ha visto Son l'aveva visto vabbè ok calma minchia comincia ah è per loro ah è per loro tipo mi ha buttato giù tipo placcaggio ed è per loro va bene ok che carità rispettiamo la decisione dell'arbitro anche se è un arbitro FIFA di FIFA del gioco FIFA tanto Son Son eh vabbè niente da fare no bravo Williams Williams vai Salah scusate Salah 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 oh e sono 5 ah è la centesima presenza bene bene oggi sono è una partita importante la centesima presenza di Salah quando è stato il primo gol il gol numero 250 di Son insomma sono quelle cose le cose belle con que 5 a 1 va bene così va bene così ok a posto così 5 a 1 sono contento magari magari 1500 punti di Squad Battles magari rifaccio non ne sono sicuro ma magari c'è la speranza che 1500 punti di Squad Battles rifaccio vediamo nei 10 come 408 si può essere 1500 rifaccio vediamo 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 che ci dicono allora addirittura 1841 vabbè contento sono va bene così signori va benissimo così ok siamo arrivati livello raggiunto 1-3 direi possiamo salutarci qui dopo questa partita possiamo salutarci qui darci appuntamento alla prossima puntata di viva la FIFA foot e disperazione a disperazione continuare a essere sempre e solo la mia non preoccupatevi detto questo saluto tutti quanti voi e alla prossima ciao ciao Grazie.